musica salutiamo in compagnia oggi di un grandissimo personaggio sfido a chiunque a accudirci con uno che conosce a Musico un grande panellaro, come potremmo dire no? e come no? cresciamo tutti che panellaro di Musico hai capito quando ciò ti cacciato? assolutamente si Musico siamo a casa tua per chi, ovviamente già abbiamo anticipato ne fa vivere come si fanno a panella stiamo vedendo avemo una pignata in capo dentro a questa pignata che ci mettiste? acqua, sale e farina di cece quanta acqua, quanta farina di cece e quanto sale? c'è l'acqua e un chielo di farina farina di cece che fossi chiesto no? esatto, questa farina di cece casa a cazza diciamo si trova comunemente a Palermo fanno ah tutta la cazza a Palermo perfetto e sale quanto sale ci metti? ad occhio che fanno? 100 grammi di sale 100 grammi di sale perfetto quindi abbiamo visto che tu fai su te gamme e ti metti ad arremenare a arremenare e preparare la panella pronti siamo per fare la panella? si, già pronti siamo papilla pignata ora mangiamo ahahahah ma ci siamo pronti Paolino il pedologo la panella è pronta bene, pignata un'allandica questo è il cavolo il cavolo il cavolo il cavolo come mangi il pane nel ronco? tradizione tradizione sto capendo una cosa e così mi dici se è vero o non è vero prezzemolo non ci ne metti no, prezzemolo non ci sono tutti che usano vero? no a Palermo ci mettono a Palermo qui non ci sono tutti qui siamo tutti schifiosi qui siamo tutti schifiosi qui allora quindi tu bastesti per quanto minuto di quando ci metti acqua sale farina di ceci 40 minuti a arremenare 40 minuti a arremenare quindi bene va a essere così bella denza si a budino e poi chi fa il gioco? questa panella la Masterchef ah che tu hai fatto una panella si questa è la panella fatta dalla forma come una scia panella ottimo io mi ricordo una volta me nanno quando le facevamo vedemmo a casa che le inizievamo le boazze di pomodoro ah la lanna poi le inizievamo e le tagliavo questo è professionale che abbiamo non capisci tu professionali stiamo parlando di musicone che stiamo parlando di qualche di un ramme scato con nenne una garanzia una garanzia metti Paolo te ne ce la fa a panella però bene con la panella con la panella con la panella ma così e questo è entrato con la panella e chi sta facciando a riposare ora? ma è pronto no non c'è bisogno da riposare ma sei pronto che non vado a mangiare no vabbè ma si va a frire prima si non lo so e di due cruda si può mangiare non si può e la panella di musicota può mangiare come vuoi è vero? pure un rima vado a vedere panella di musicota può mangiare quando vuoi quando vuoi ah che ti pare oggi si unge oggi ho fritto e fai da sponata hai visto anche questa panella fantastico eh potremmo mettere un decaminio per farla a beccare come si fria e che ha toglio come andiamo a tua moglie venissi venissi qua venissi non si preoccupate all'opera non si preoccupate capella sei sempre in diretta non facciamo cose ma si può fare non ne mangiare ma ti senti che la togli un capo dai che la prendiamo picciotti ma e tutte le cose che prendiamo a fare ma non mangiare ma te le facciate tu o le prendi no che si mi ordinavo a baghe picciotti a baghella non ci ha pagato non ci ha pagato non è no non è sbagliato ah vedete che non sta sbagliando come si ci mette aspettate signor però va bene lei in modo che ne vediamo tutti che mi sembra già ah vedete ah ah la signora quando si parla con queste cose si parla pure a fare panellare diventa signor se mettessi che non le facciamo buona la prima però spazio e chiedo ci mettiamo un cane oggi stai chiedendo il pane a fischio e pirita come si diceva a niente a niente a niente buona 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 la prima acqua avanti il vento farà va bene signor chi se ne fa stare a nangelo cominciamo a fredre se ne facciamo un occhi a nangelo aspettate che la signora mentre ce la proviamo ma si co va bene va bene avete capito no? musico puoi far vedere come si esce la panella che così magari si vede giusto allora tu la mettisci dentro questa formina e tu la fai qui e non esce e tu la fai perché c'è quella fanno a triangolo ognuno diceva ognuno diceva ognuno diceva ognuno diceva una forma musico quanto potessi durare una panella a cossini mi sanno frigorifero tre giorni che c'è una panella cruda dici chi è mi credete che è la prima volta che io mangio panella cruda musico hai visto? di musico tutto può mangiare panella cruda musico di musico tutto mangia musico no ma posso mangiare che mi piace il café ma non lo vedi mi ha mangiato ci si chiacchino abbiamo una vita che fa il panello io già mangiamo con la panella mi piace il panello fantastico musico no me lo immaginavo che tu faceva questo lavoro del genere questa cosa di ligno musico picchi di ligno che cosa? la paletta? una paletta così a vestiti c'è no di ferro di ligno? no 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 cosa facessi tu? si a Palermo che cosa a Palermo fa fare? i canetti la panella c'è bianca picchi di musico la panella come si fa? il suo papo era un palermo hai visto il palermetano? vedi se la giorgi non la panella non lo capiva fare quindi dopo c'era di Palermo di Palermo è un palermo è una scema hai capito? ma tu palermetano non si razzaggiano ah no faccio la giu si razzaggiano o palermetano? razzaggiano qui la grigendina la grigendina la grigendina la grigendina io non lo sapevo allora ci siamo musico dalle spostate un minuto gentilmente che così si vede mentre l'inquadratura l'olio a che punto è signora? quasi pronto quasi pronto tanto poco olio che usa? olio di seme ah di seme che dove motore della macchina è meglio ahahahahah no la panella piccola di musico è una panella di musico c'è picca di fare vedete ma quando le fa? ma è bella rustosa anche il ruolo o toccata cioè le mette a cingacinca o toccata le faccio giuste a costretta ma quando c'è un laboratorio come la taberna mia la defensa cambia il laboratorio mi sa vedere come si fa ah che ti pare ma non le fa a casa? no no facciamo un a costa per andare per partire a casa certo? e mangia Paolizio non lo so fanno mangiare a Paolizio aspetta la panella che dovrà bella fritta caputa 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 ah niente di ogni cosa fanno grassare più di una madre che respiriamo vedi l'olio è pronto allora musico e allora le tagliamo a metà ah le taglia a metà sì la panella viene più più meglio e passaci a spatola no non ti ha bisogno le taglio io con il cotto e due ah non è si sposta e vedevo musico che mette la prima panella e stavo tagliando tagliamo tagliamo ah quindi a metà un'arte vedi con semplicità e con poche cose se uno a casa si pulite stasera voi potessi fare due 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 panelle signor aspettate che si vede come si frivano le panelle la signora si stigna manco il vento può sentire più le panelle non ci credo perché è sempre buono ma ogni tanto vedi ecco tu e qua c'è la mia non ci credo già ci sono due panelle ora c'è la mia panelle figlione bella bella se io stai vedendo qua una bella friggitoria avemo le belle friggitoria di casa di casa a parte casa l'antico non si è sbagliato ma io stavo tanto abbassato non sono tanto vero eh signora vedi signora che ci voglia vedere ma come si è passato questo marito signora benissimo tira di panelle signora tira di panelle bello bello musico di quante volte ti appassionaste queste panelle eh ci nasce ci si cava ci nasciste 2.54 2.54 2.54 eh te l'aspettava tu che era una cosa così veloce eh veloce però guarda tu vai 40 minuti per girare girare ma io non so fare ma che butta ma non sono come musico stiamo parlando di musico è come se parliamo da un re da panella un re da panella ci potevo dare un nome di un re da panella ci siamo musico quando arrivavamo a scuola operandello facevamo un musico panino da panella 1500 lire vero è vero è vero è vero sempre sempre pure pure me le lire me le lire a bella lire ah e c'era la cazzosetta che faceva la marina che quando finiva tu due panciare il tuo panino ti fattava la cazzosetta e arrottava tu oh e le la sovute fantastico come aveva detto io che ci stanno condannato ma aveva aspettato che è nato prima ora si è rotta in silenzio ed è rotto fa necce e scendere necce e scendere allora musico tu stai a via che aspettano devi vedere un colore da panella ma stai a quando promette ma fanno oppona o nende o nende gli altri musico oppona o nende certo perché se c'è qualcuno da lei a casa per fare panelle e che musico sbagliato si vede si vede me in quattro atto sei musico saluta 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 lui che contento sta cucendo il menù mi fa un berno che giù già prima panella scende qui c'è il cuore bene panella su panelle la panella è panella c'è piccato i pan fatta fresca non c'è piccato la farina non c'è piccato il acqua non c'è piccato la saluta uno fa una cosa ma è vero se uno piace nell'imbasso ci mette una piccata di prezzemolo tanto per ma poco a rute però vabbè prezzemolo lo sai che qua siamo fine quindi le cose a mezzarete non le piacciono ci siamo vieni qua grande musico grande musico signori una panella numero uno allora ce ne diamo subito una a mangiare a Paolino che se ne metti il cane nel panino te mangia Paolino con il tuo panino con il tuo panino musico concludiamo la nostra rubrica l'antico non si è sbagliato mai chiedendoti un proverbio siciliano un proverbio siciliano com'angia bene ma ho ammazzato com'angia bene Paolino salutavo con musico com'angia bene Paolino alla prossima